Bentornato, questo è un'altra casa tua, lo sai. Grazie. Conosci Giorgia e Tommaso? Buonasera. Buonasera. Allora, Federico, nel tuo ultimo libro che hai in mano, Suicidio Occidentale, titolo da Mondadori, tu scrivi che è in corso la nostra autodistruzione. L'ideologia dominante, tu dici nell'università, un po' il pensiero dominante, ci impone di demolire ogni autostima. Secondo questa dittatura ideologica, dici, non abbiamo più valori da proporre al mondo. Avremmo solo crimini da espiare. Ed è quello che un po' leggiamo anche sui social, perché da quando è iniziata la guerra, ci sono dei giorni in cui uno leggendo pensa che siamo stati all'Occidente a invadere l'Ucraina, perché si parla molto di più delle colpe degli americani, anche lì, che non di quelle dei russi. Ecco, io quindi ti chiedo, tu pensi che l'Occidente sia corresponsabile di questa guerra? Te lo dico meglio, Putin ha attaccato per paura dell'Occidente, come dicono vari altri analisti, oppure perché l'Occidente non gli fa più paura? La seconda, decisamente la seconda. Anzi, la teoria secondo cui Putin avrebbe attaccato per paura dell'Occidente fa parte proprio della nostra sindrome dell'autocolpevolizzazione. Dobbiamo vedere in tutti i mali del pianeta ci siamo sempre noi al centro. E questo è il suicidio dell'Occidente, che è in corso da molti anni. La verità vera è che Putin ha attaccato perché non gli facciamo paura, perché l'antefatto, il retroscena di questa guerra sono anni e anni di autodemolizione, autodenigrazione, in cui abbiamo istruito un processo a noi stessi. Anziché pensare di essere portatori di valori universali, abbiamo descritto l'Occidente come la fonte di tutti i mali, l'impero del male, l'inferno in terra. Però tu dici l'Occidente. Diciamo che la parte di molti europei, più che l'Occidente si dice gli anglosassoni, cioè America e Inghilterra, in particolare gli Stati Uniti. Ma infatti la narrazione più autoflagellatoria in questo momento io la sento negli Stati Uniti, dove abito, cioè nelle università americane, nei grandi media, e ai vertici del capitalismo digitale c'è questa sindrome del è tutta colpa nostra, siamo l'inferno in terra, siamo la società più razzista, più sessista, più discriminatoria e nel corso di questa autodistruzione l'Occidente ha fornito delle parole che Xi Jinping e Putin, Xi Jinping è il compare che sostiene Putin, anche quando non lo fa vedere, Xi Jinping e Putin se ne sono impadroniti, usano le nostre stesse parole per descriverci come una civiltà moribonda, una civiltà decadente, l'Occidente come malato terminale, e sì, sono d'accordo con te, poi l'Occidente vuol dire prima di tutto l'America e poi anche l'Europa, nell'Europa vediamo in questi giorni, talmente evidente qui in Italia, ci sono delle tendenze anti-occidentali fortissime che vengono fuori proprio a proposito della guerra, cioè il filoputinismo in Italia attraverso tutte le famiglie politiche, dagli ex fascisti agli ex comunisti, io sono uno di quelli, la mia storia la conoscono in tanti, però io ricordo una cosa, della storia del Partito Comunista, quando io ero un iscritto negli anni 70, ai tempi di Berlinguer, Berlinguer nel 77 disse una cosa sconvolgente, disse io mi sento più sicuro, mi sento più sicuro stando nella Nato, beh all'interno del Partito Comunista, molti la presero come una frase opportunistica per andare al governo, cioè bisogna rassicurare gli americani e quindi diciamo queste cose qui, Berlinguer ci credeva, Berlinguer aveva meditato la lezione di Budapest 1956, invasione dell'armata rossa, Praga 1968, invasione dell'armata rossa, fu una frase importante, coraggiosa, lungimirante, ma non l'hanno digerita tuttora molti miei ex compagni. Senti, è vero, Tommaso, a proposito, questo lui diceva i vecchi comunisti, ma i nuovi partiti, Lega e 5 Stelle, allora, i distingue per esempio di Conte e Salvini in questi giorni sulle armi all'Ucraina, dipendono proprio da un sentimento anti-americano, quello che ci stava raccontando Federico, che è molto diffuso fra i loro elettori. Allora, Conte e Salvini, secondo me, al di là dei loro elettori, sono messi insieme al governo in un momento in cui c'era il più putiniano possibile dei presidenti degli Stati Uniti d'America, che era Donald Trump. E quindi il loro humus di quel governo è proprio la Russia di Putin e l'America di Trump. Incredibilmente, quando Trump poi alla fine non viene rieletto, quasi magicamente questo sodalizio si rompe pure in Italia e i due finiscono per litigare. Cosa incredibile, su cui nessuno si è, mea culpa, anche io, così tanto interrogato, un mese prima dello scoppio della guerra, in coincidenza con le elezioni per il nuovo presidente della Repubblica, due persone che consideravamo ormai nemiche, c'era anche la foto, ecco questa qua, che il loro Conte sta parlando contro Salvini, in quel momento si ritrovano insieme a fare la partita per il Quirinale e in uno dei tornanti dei primi giorni avevano individuato una candidatura, secondo molti, del professor Frattini, che poi venne la sera stessa dei retroscena bocciata da Matteo Renzi perché è proprio filo russo. E questo succedeva esattamente un mese prima che Putin decidesse di invadere l'Ucraina. Questa è la politica. Poi c'è il Papa, che invece fa il Papa, giustamente ha definito uno scandalo l'invio delle armi e l'aumento di spesa per il riarmo. Però uno si domanda, purtroppo, come si fa a difendersi da un'aggressione senza armi? Questa è una domanda che anche i pacifisti ci si pone, no? Perché come si può? Ma intanto voglio ricordare che il Cardinale Parolin, che è segretario di Stato, quindi Ministro degli Esteri del Vaticano, ha detto sostanzialmente il contrario. Io non sono un vaticanologo, però è evidente che... La guerra di difesa, cioè quando ci si difende? È legittima difesa. Esiste la legittima difesa anche per le nazioni. Una nazione aggredita, selvaggiamente bombardata, che subisce massacri, la distruzione delle città, la morte... Ha il diritto di difendersi. E in questo momento, adesso io, francamente, dirò una cosa forse sgradevole per alcuni cattolici, però Papa Francesco è anti-americano, se intendiamo l'America del Nord. È molto argentino in questo lui. Io mi ricordo quando ero, vivo tuttora a New York, ma c'ero quando visitò gli Stati Uniti invitato da Barack Obama, pochi anni fa, non aveva mai messo piede negli Stati Uniti prima. Quindi ha un rapporto... I americani come li chiamano? I gringos, no? O i Yankees o gringos, certamente. Quindi ha un rapporto... Io lo metterei, con tutto il rispetto per il Santo Padre, io lo metterei tra gli anti-occidentali oggi. Fa parte di un cattolicesimo di sinistra anti-occidentale. Ha fatto bene Tommaso a ricordare la figura di Donald Trump, perché ci sono due putinismi, cioè gli opposti estremismi, l'estrema destra e l'estrema sinistra in America si ricongiungono. Black Lives Matter, a tutti i grandi antirazzisti della comunità afroamericana, intellettuali marxisti, facevano la passarella su Russian Television e Radio Sputnik, i mezzi di propaganda di Putin.